citazione a parte vuole questo altro giudadischi qua che ha un braccio tangenziale che significa significa che diversamente da questi che hanno un punto fisso un pivot che qua dove il braccio fa questo movimento man mano che ascolta il disco che inciso con una spirale il braccio tangenziale è sostanzialmente statico e si muove semplicemente in maniera tangenziale rispetto al solco cioè da qui a qui con linea perfettamente ad angolo di 90 gradi rispetto al disco come potete vedere più o meno ci siamo ok quello va regolato bene e questo permette una precisione di ascolto superiore talvolta superiore non sempre ma tecnicamente si ha il classico gira dischi abbraccio così a pivot perché perché nell'atto dell'incisione i sistemi sono abbraccio tangenziale fondamentalmente perché le macchine in dischi hanno una sorta di stampante chiamiamola così che vibra sul vinile e che incide il disco per cui cosa succede succede che questo mega abbraccione che si trova qua al centro copre il disco è una puntina che vibra si muove in questo senso quindi in maniera tangenziale l'errore di lettura dovuto a questo alla compensazione viene comunque precalcolato nell'ambito dell'incisione quindi un braccio un braccio a s come può essere questa s per via della forma ha comunque una lettura molto precisa nonostante l'angolatura non sia sempre perfetta ma questo caso non ci sono tipi di errori non esiste anche questo è il motore direct drive cioè il tipo diretto ma la differenza tra questi due qual è questo motore di metà anni 70 vecchio vecchio tipo regolato tramite delle spazzole dei sistemi di controllo molto precisi ma non proprio precisissimi quindi ci può essere una leggera fluttuazione dei giri del disco mentre nel caso di questo pioneer è un millesimo come un orologio quindi non sgarra di un giro se dice che va a 33 va a 33 se dice che va 45 45 poi altra cosa questi due piatti sono totalmente manuali quindi si accendono e si spengono a manina la puntina si mette a manina e si toglie a manina con la levetta apposita per non rovinare i solchi ma in questo caso è totalmente automatico quindi un sistema elettronico decide di far alzare il braccio di spostarlo a sinistra e a destra o di far partire il disco nel punto esatto di far ripetere totalmente lo stesso lato più volte di decidere qual è il diametro del disco in modo tale che alla partenza dello stesso la puntina si parcheggia all'inizio del solco nel caso dei 45 giri che sono più piccoli sono da sette pollici come leggete qua la puntina si piazzerà a sette pollici circa dalla dal vinile quindi al suo inizio se questa cosa non dovesse essere stata non dovesse essere regolata il rischio che la puntina accada sulla sulla gomma che dove il disco appoggiato rovinando la non subito ma facendo qualche danno e questo è il lato giradischi sempre a proposito di giradischi una cosa da da spiegare per chi non lo sapesse è che i giradischi diversamente dai lettori cd dalle radio dalle cassette da qualunque altro apparecchio che va collegato a un precipitore un sintoplificatore o un amplificatore apposta non ha uscita di linea ovvero che ha un volume pari a diciamo regolato in termini di volte di volume è un uscita invece molto bassa simile a quella dei microfoni era per amplificata con dei pre amplificatori fono gli amplificatori diciamo prodotti anche negli anni 90 ne avevano uno quindi potevate collegare un giradischi a questi amplificatori e avrebbe funzionato perfettamente mentre poi dagli anni 2000 in poi con gli home theater si è perso anche questo questa connessione ma anche qualche marca come yamaha continuasse a produrle facendo un favore a tanti collezionisti o pazzi come me che avrebbero voluto un amplificatore moderno con la possibilità di usare i giradischi ma in tutto questo la variabile come dire comune di tutto l'impianto e quindi da qui poi nascerà una nuova puntata più specifica è che io colleziono si vinili mi piacciono i giradischi eccetera ma in particolare seguo molto in maniera molto curiosa anche il formato che è durato pochissimi anni perché non c'è stato uno standard vero e proprio chiamato quadrifonia ovvero la monofonia permetteva il suo da un solo cono e questo è durato almeno a livello commerciale per tutti gli anni 60 quasi fino a fine anni 70 e poi la stereofonia ovvero due canali incisi su su vinile su cassetta o su stereo 8 per chi li avesse conosciuti per cui aveva due canali stereo come i famosi cd che li ascoltate ancora oggi quindi la stereofonia è rimasta ma in un periodo storico di sperimentazioni qualcuno ha voluto sperimentare la quadrifonia ovvero quattro canali molto simile a quello che oggi chiamiamo dolby surround o surround semplicemente in cui si poteva arrivare fino a quattro canali permettendo così l'ascolto della della musica in tridimensionalità che non è solo l'aspetto come dire del rispetto dell'ambiente quello ascolti le rifrazioni dei suoni eccetera ma proprio posizionando molti strumenti intorno all'ascoltatore creando anche una sorta di gioco di passaggi da sinistra a destra davanti dietro molto interessante e ci sono molti dischi prodotti in quel periodo che contengono le tracce quadrifoniche e anche lì ci sono vari formati appunto come vi anticipavo non esiste un formato unico su vinile in particolare ma ne esistono quattro i più famosi sono tre in realtà il quarto stato sviluppato per il mercato giapponese europeo ma non ha avuto nessun tipo di successo è un po nato e morto contemporaneamente alla sua invenzione quindi ci sono appunto bisogna avere i mezzi per decodificare o decifrare il segnale quadrifonico dei vinili che sono semplicemente di dischi stereo alla fine però ognuno ha le sue prerogative e anche questo ve lo devo spiegare a parte